Il Siena ha fatto un'ottima partita, però anche Cittadella ha fatto bene, non per 90 minuti, però un buon primo tempo, ha lasciato nella parte iniziale e nella parte finale nel secondo tempo che sapevamo anche con certi cambi, che ci ha messo anche in difficoltà. Però io sono contento della prestazione della squadra per questo, perché ci siamo intanto disposti magari in maniera diversa. Oggi ci siamo messi a quattro per avere degli uno contro uno e bisognava correre e scivolare da una parte all'altra e aspettarli su una zona del centrocampo. Io credo che la squadra come atteggiamento tattico difensivo ha fatto una partita eccezionale, salvo alcune occasioni o alcuni svarioni che li abbiamo concessi, anche in occasione della parata di Villanova c'è stato un svarione e una chiusura sulla destra non realizzata di Manucci. Però in fase difensiva siamo stati perfetti. Siamo mancati, quando abbiamo recuperato la palla, alcune giocate in avanti, non giocate troppo di qualità, siamo mancati un attimino davanti, qualche ripartenza e noi sapevamo che per far male al Siena dovevamo ripartire. L'abbiamo fatto solamente due o tre volte. Questa è la partita che sotto certi aspetti mi ha soddisfatto di più. E' anche, secondo me, era anche la partita più difficile, perché credo che in questo momento questa squadra abbia qualcosa in più degli altri. Sapevamo che avevamo questo trio di partite toste, anche se non siamo mai riusciti a vincere. Penso che in tutte e tre le partite abbiamo dimostrato che per batterci devono essere veramente, veramente, veramente forti e se non ci hanno battuti vuol dire che anche noi non siamo da meno e abbiamo fatto vedere, a parte il risultato, anche la competenza del gruppo a non mollare fino alla fine. E la tua parata nel finale vale quanto il gol di un attaccante, possiamo dirlo? Beh, sai, ogni tanto, insomma, certe cose non si vedono. Questa volta è stata importante. Niente, sono contento, ma è normale, sono lì per quello. Insomma, ecco, adesso bisogna fare ancora più punti, bisogna cominciare a vincere. E comunque questo è un momento, tre punti che ci hanno dato, questi tre pareggi che ci hanno dato una mentalità, ci hanno dato una consapevolezza di noi stessi, insomma. Visto un po' le occasioni sprecate, sicuramente è un risultato che ci sta sicuramente un po' stretto. Il Citella comunque sicuramente è una buona squadra, visto che negli ultimi tre partiti ha fatto tre pari, pareggiando a Torino, a Novara e contro di noi, quindi comunque gli va riconosciuto dei meriti.